C'è un rischio escalation crescente di cui hanno parlato il Papa, Mattarella, Josef Borrell e no, non è l'Ucraina e nemmeno in Palestina. Vediamo di che si tratta. Parliamo anche delle nuove abitazioni che il governo israeliano ha deciso di costruire per allargare le colonie illegali in Cisgiordania e di un'interessante operazione di Al Jazeera che smonta un'inchiesta nel New York Times sugli stupri compiuti da Hamas il 7 ottobre. Infine, qualche accenno alla giornata internazionale delle donne, l'annuncio di un incontro sui grandi eventi in natura e poi c'è lei, la giornata d'Italia che cambia. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è l'8 marzo 2024 e questa è Io non mi dà segno, la resena stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! C'è un'altra grande escalation guerra fondaia che sta interessando un bel pezzo di un continente ma di cui si parla pochissimo, perlomeno alle nostre latitudini. Parliamo del continente africano e del conflitto che si sta combattendo nella Repubblica Democratica del Congo ma che rischia di allargarsi ai paesi confinanti e scatenare meccanismi davvero difficili da affermare. Ora, che la situazione sia preoccupante, lo testimoniano, oltre che alcuni articoli che sono riusciti a recuperare, vari appelli lanciati da personaggi abbastanza rilevanti tipo Papa Francesco, tipo Sergio Mattarella, tipo l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Josep Borrell, insomma, le massime cariche di varie istituzioni. Ciò nonostante, le notizie che riguardano questa guerra sfiorano solo di strisce i nostri giornali. L'ultima volta che ne abbiamo parlato qui era quando ne aveva, praticamente, aveva sollevato il caso un giocatore di calcio, Romelu Lukaku, quando aveva fatto il gesto della pistola dopo aver esultato per un gol con la Roma. E, a testimonianza del disinteresse mediatico, c'è il fatto che, per recuperare informazioni più recenti su quello che sta accadendo, sono dovuto andarmele a cercare su Africa24.it, che, con tutto il rispetto, insomma, non è esattamente il Corriere della Sera o la Repubblica. E questo, appunto, nonostante alcuni segnali stiano indicando che c'è un forte rischio di un'escalation in tutta la zona. Comunque, insomma, del conflitto in Repubblica Democratica del Congo abbiamo parlato qualche volta qui sulle mie rassegni, ma vi faccio, come sempre, un po' un riassunto della situazione per non dare niente per scontato. Si tratta di una specie di guerra, in realtà, che dura da tantissimo tempo, mai del tutto sopita, che dura più o meno da 60 anni. Sono 60 anni che il Congo è, la Repubblica Democratica del Congo è sconvolta da una serie di conflitti. Ci sono stati circa 12 milioni di morti in questo periodo di tempo. In particolare, ci sono stati due conflitti particolarmente grossi negli anni 90, la prima e la seconda guerra del Congo, ufficialmente terminati, ma mai veramente terminati, che sono rimasti un po' sotto traccia per poi riacutizzarsi di recente. Questi due conflitti sono stati, appunto, molto sanguinosi e hanno coinvolto non solo il Congo, ma numerosi paesi africani e soprattutto, oltre al Congo, il Rwanda, nonché una serie di gruppi ribelli spinti in parte dal desiderio di controllare le ricche risorse minerarie del paese come diamanti, oro, cobalto, rame, coltan e così via, in parte fomentati a loro volta da altre potenze, potenze tipo nazioni confinanti, ma anche paesi occidentali, ma anche aziende occidentali, tutte più o meno con le stesse mire di controllare, appunto, una regione davvero ricca di risorse naturali. Attualmente, il principale gruppo ribelle contro cui combatte il governo centrale di Kinshasa si chiama M23 e controlla la parte est del paese. In particolare, il conflitto si sta localizzando in queste settimane, in questi mesi, nella regione del Nord Kivu, solo che, appunto, dietro a questi gruppi di presunti ribelli si muovono altre potenze regionali. In pratica, come racconta l'articolo che vi menzionavo prima, un recente documento delle Nazioni Unite al quale l'AFP ha avuto accesso, l'AFP è un'agenzia, insomma, di... francese di stampa, rivela l'impiego di armi sofisticate da parte dell'esercito ruandese a sostegno dei ribelli dell'M23. Stando al report confidenziale, l'arma in questione è un missile terraria che è stato sparato da un sistema mobile contro un drone di osservazione dell'ONU senza tuttavia colpirlo. Ecco, capite bene che un sistema del genere, un missile del genere, su un sistema mobile è una roba molto sofisticata che di certo non può essere in dotazione. Cioè, come se la sono fatta a procurare dei gruppi spontanei di ribelli, è una prova abbastanza evidente del fatto che dietro a questi gruppi c'è qualcosa di più strutturato e il principale indiziato è appunto l'esercito del Rwanda. E in generale, fra l'altro, racconta ancora l'articolo, sul campo sta aumentando molto l'uso di sofisticate armi antiaeree, fra cui appunto l'arma citata prima, ma anche cannoni antiaeri e sistemi di difesa aerea mobile, che stanno innanzitutto rappresentando un grave rischio per tutti gli aeromobili governativi e anche per quelli delle Nazioni Unite che operano nella regione, e poi rappresentano appunto una prova abbastanza schiacciante del fatto che ci sia un supporto molto concreto e diretto da parte probabilmente del Rwanda. Rwanda che nei mesi scorsi era già stato accusato dal governo della Repubblica Democratica del Congo, ma anche dalle Nazioni Unite e da alcuni paesi occidentali, di supportare il M23 e queste accuse sono state sempre spinte al mittente dal governo ruandese, ma ecco, queste ultime prove sembrano suffragarle in maniera abbastanza chiara. E il punto è che se questa guerra, che fino adesso è una sorta di guerra per procura fatta attraverso il supporto di gruppi ribelli locali diventasse un conflitto vero e proprio fra i due stati, fra i due eserciti regolari dei due stati, la situazione potrebbe facilmente degenerare e allargarsi a macchia d'olio visti gli equilibri molto precari e delicati di quella parte di contenente. Già adesso comunque la situazione ha provocato un'ondata di disperazione fra la popolazione civile con migliaia di persone che hanno abbandonato Sake, un luogo strategico sulla rotta verso Goma, la capitale della provincia dell'Orchivu, per sfuggire ai combattimenti. Al tempo stesso ci sono anche delle ipotesi, non so quanto provate, ma di sicuro diffuse fra la popolazione, che aziende e governi occidentali stiano in realtà facendo un po' il doppio gioco e se formalmente appoggiano il governo di Kinshasa, quindi il governo, appunto, ufficiale del Congo, di nascosto supportano i ribelli dell'M23, tant'è che negli scorsi giorni ci sono stati attacchi a veicoli diplomatici delle Nazioni Unite con due veicoli che sono stati dati alle fiamme e disordini diffusi in due delle maggiori città dello Stato, la Repubblica Democratica del Congo, fra cui la capitale appunto Kinshasa e Lubumbashi, una città del sud-est, dove sono registrate manifestazioni di protesta fuori dalle ambasciate francese, britannica e americana. Lunedì, molte scuole straniere del paese e alcune attività commerciali nel centro di Kinshasa sono rimaste chiuse e diversi osservatori hanno osservato e raccontato un incremento significativo di forze di sicurezza e un'ondata di giovani che si sono riversati per strada pronti a manifestare e devo dire che è un segno abbastanza tangibile del fermento che scorre sotto la superficie sociale del paese e anche probabilmente dell'insofferenza verso un certo tipo di ipocrisia occidentale. Lato mio, lato nostro, non posso non notare appunto come ci sia una sorta di doppio standard con il quale interpretiamo la realtà con il quale in questo caso neanche ci schieriamo da uno o dall'altra parte ma scegliamo di non raccontare un evento simile per tanti versi appunto a un tipo di escalation che invece viene raccontata quotidianamente dai giornali che è quella che si sta svolgendo in Ucraina e in forme diverse anche appunto in Palestina nonostante le società europee i paesi europei recitino comunque un ruolo anche in quel tipo di conflitto e anche in quel tipo di escalation o forse a ben vedere proprio perché i paesi europei recitano un ruolo in quel tipo di escalation solo che è un ruolo un po' più scomodo e che magari non ci piace tanto raccontare va bene torniamo a parlare di conflitti che ci sono più familiari scusate la puntata un po' pesante come tema però questo è parliamo della situazione fra Israele e Palestina in realtà non tanto dell'invasione della striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano di cui abbiamo parlato insomma spesso ma in questo caso di un fatto un po' più tangenziale saprete probabilmente che cosa sono le colonie israeliane in Cisgiordania sono degli insediamenti che da decenni Israele che mantiene anzi amplia via via e continua a costruire in Cisgiordania che in realtà però è un territorio considerato secondo buona parte della comunità internazionale di proprietà dei palestinesi e per cui sono diciamo colonie illegali considerate illegali da quasi tutti i paesi del mondo tranne sostanzialmente Israele e sono ritenute il principale ostacolo a una pace duratura fra israeliani e palestinesi perché se un domani ci fosse appunto l'ipotesi dei famosi due stati quindi di uno stato palestinese queste colonie andrebbero effettivamente smantellate solo che il governo israeliano ormai da anni ha smesso di parlare di un eventuale smantellamento ma anzi continua a costruire di più buona parte della propaganda della propaganda del governo di Netanyahu si basa anche sul fatto di continuare a costruire queste abitazioni e insomma quindi diventa molto difficile adesso fare marcia indietro comunque perché ve ne sto parlando perché negli anni appunto i governi israeliani e Netanyahu ha avuto un bel apporto su questo hanno continuato via via ampliare queste colonie ed è successo di nuovo proprio questo mercoledì il comitato superiore di pianificazione dell'amministrazione civile ovvero quell'organo del governo israeliano che prende delle decisioni relative alla pianificazione delle colonie in Cisjordania ha approvato i progetti per la costruzione di ben 3.400 nuove abitazioni all'interno di una serie di diversi insediamenti considerate che soltanto nell'ultimo anno è stata approvata la costruzione di quasi 20.000 abitazioni per l'esattezza un po' meno 18.515 in queste colonie ma che il comitato non si riuniva da giugno dell'anno scorso e quindi è la prima volta a tutti gli effetti che un ampliamento viene approvato dopo l'invasione della striscia di Gaza da parte di Israele devo dire davvero un ottimo modo per stemperare le tensioni come racconta il post circa il 70% delle abitazioni appena approvato sarà costruito a Male ad Umim a est di Gerusalemme mentre il resto nelle vicine Kedar ed Efrat a sud di Betlemme il ministro delle finanze Bezalel Smotrich principale responsabile del comitato ha definito l'espansione una risposta sionista appropriata all'attacco armato avvenuto due settimane fa vicino a Male ad Umim in cui tre persone palestinesi avevano sparato alle auto ferme in coda prima di un posto di blocco al confine tra Gerusalemme e Cisgiordania uccidendo un uomo efferendo 11 persone in realtà episodi come questo sono abbastanza frequenti anzi spesso avvengono a parti invertite nel senso che sono più frequenti le violenze le uccisioni da parte di coloni israeliani verso palestinesi e sono addirittura aumentate dopo l'inizio del conflitto con diversi casi di coloni armati che hanno ucciso persone palestinesi e l'esercito israeliano che ha fatto varie e frequenti operazioni molto violente nei campi profughi palestinesi in Cisgiordania giustificandole quasi sempre con questioni di sicurezza quindi ecco questo è il contesto e in una situazione del genere ovviamente decidere di costruire nuove case non è esattamente un segnale distensivo né particolarmente incoraggiante ora in tutto ciò è interessante osservare come si comporta il mondo delle informazioni occidentali nei confronti di questo conflitto più volte abbiamo notato con riferimento ai giornali italiani spesso come ci sia una sorta di doppio standard con cui vengono interpretati i fatti e una tendenza a giustificare qualsiasi tipo di decisione del governo israeliano sulla base degli attacchi del massacro terroristico compiuto da Hamas il 7 ottobre questa tendenza non è solo italiana ma riguarda una bella fetta del mondo occidentale del giornalismo occidentale e anche media che tradizionalmente sono considerati un po' il meglio del giornalismo mondiale per riuscire a bilanciare un po' questa narrazione e ad avere una visuale più ampia di quello che sta accadendo in questi mesi devo dire che ho fatto ricorso varie volte ad Al Jazeera per avere un po' una voce che è sempre istituzionale affidabile e sempre un po' schierata però dall'altra parte in modo da avere una così visione della realtà più complessa più sfaccettata o perlomeno vari punti di vista ora perché vi sto facendo tutto questo preambolo direte voi perché mi è stato segnalato un podcast molto interessante podcast e format video in realtà di Al Jazeera che si chiama The Listening Post all'interno del quale in una puntata si smonta la narrazione dei medi occidentali su quanto sta accadendo a Gaza attaccando frontalmente il simbolo del giornalismo occidentale ovvero il New York Times in un'operazione giornalistica che ho trovato molto interessante ovvero quella di fare una specie di inchiesta su un'inchiesta per mostrare che è falsa e pretestuosa l'inchiesta in questione sulla quale viene fatta l'inchiesta scusate il gioco di parole è quella del New York Times pubblicata a fine dicembre scorso in cui si afferma che i miliziani di Hamas avrebbero rapito e violentato sistematicamente donne uomini di ogni età durante l'attacco del 7 ottobre come spiega Al Jazeera la potenza del Times sta nel fatto che praticamente è detta l'agenda di tutti i media occidentali cioè uno scoop o un'inchiesta del New York Times è sistematicamente per usare lo stesso termine ripreso e dato per buono da tutti i giornali del mondo occidentale solo che in questo caso la narrazione fatta dal giornale è probabilmente non così attinente alla realtà Al Jazeera infatti raccoglie a sua volta il lavoro di The Bank infatti da molte testate indipendenti americane che mostrano come l'inchiesta sia molto povera di fonti dirette e quelle che ci sono sono o anonime o considerate poco attendibili per una serie di motivi ad esempio ci sono testimonianze di persone che affermano di aver ricevuto pressioni da parte dei giornalisti del Times per ottenere certe dichiarazioni oppure il caso eclatante di una giornalista che ha collaborato con l'inchiesta che in realtà non era neanche una giornalista ma lavorava per i servizi segreti israeliani e aveva decisioni davvero estremiste su Gaza e sui palestinesi insomma secondo quanto riportato dal Jazeera ci sono parecchi dubbi sul fatto che quelle violenze sessuali e stupri sistematici descritti dal New York Times fossero realmente così sistematici ciò non significa ovviamente che i rapitori di Hamas fossero dei simpatici buontemponi assolutamente ed è molto probabile anzi no è provato che ci siano stati episodi di stupri ma forzare la mano affinché degli episodi di stupri diventino una narrazione in cui si dice che il metodo deciso a tavolino praticamente era quello di stuprare e violentare sistematicamente le persone è una roba diversa e se lo fa il New York Times il giornale più influente del mondo è una roba che cambia l'opinione pubblica cambia le idee delle persone e magari riesce a far andare giù più facilmente la violentissima risposta del governo israeliano e anche il massacro di civili ma quindi non c'è speranza per il giornalismo occidentale in realtà questa cattiva notizia è anche un po' una buona notizia perché al tempo stesso l'inchiesta di Al Jazeera mette in luce come il sistema mediatico occidentale ma in questo caso più che occidentale americano abbia ancora i suoi anticorpi perché sono stati altri giornali americani a smontare la tesi del New York Times in maniera piuttosto impeccabile cioè sono andato a vedermi poi le fonti citate dal podcast e il lavoro fatto di ricerca di appunto analisi dei dati analisi delle fonti è davvero ben fatto ora è sempre una questione poi di fiducia ma insomma ci sono prove che mi sembrano abbastanza consistenti che smontano l'articolo del Times e questo è sicuramente un buon segno cambiamo argomento abbandoniamo finalmente il tema delle guerre e parliamo di natura selvatica la natura selvatica ci piace un sacco la nostra biofilia innata ci porta ad amare passare il tempo in contesti appunto di natura selvatica quindi immersi in luoghi naturali come una foresta una spiaggia o qualsiasi altro ecosistema il problema è che spesso questa nostra pulsione bella sana piacevole ci porta a fare cose un pochino stupide tipo il Jovo Beach Party per farvi un esempio che probabilmente avrete sentito dire o che conoscerete almeno vagamente e allora vi voglio segnalare un evento che abbiamo trovato interessante e che è dedicato proprio ai grandi eventi nei siti naturali grandi eventi tipo festival concerti cose di questo genere ha senso farli non ha senso farli come ha senso farli dove ha senso farli come non ha senso farli vabbè non dico più ha senso farli avete capito cosa intendo e visto che a questo evento partecipa anche la nostra amica etologa e divulgatrice Chiara Grasso di Etico Scienza le ho chiesto di raccontarci di che cosa si tratta quindi a te Chiara sabato 9 marzo nella sede di Mare Vivo a Roma ma anche online su facebook nella pagina di coordinamento Citange ci sarà un evento dedicato ai grandi eventi in siti naturali partendo dall'esperienza di concerti in spiaggia il coordinamento italiano tutela ambienti naturali dei grandi eventi di cui faccio parte parlerà per la prima volta in pubblico con questo convegno proprio dell'impatto che i grandi eventi concerti i rally e tutte quelle attività che vengono fatte in natura hanno proprio sugli ecosistemi e la fauna selvatica quindi ci sarà Leonardo Marotta l'ambientologo di TAG Costa Mare che parlerà appunto della valutazione e la gestione di questi eventi Augusto De Santis che è il consigliere della stazione ornitologica abruzzese che parlerà dei siti di Natura 2000 Marco Cervellini l'ecologo di TAG Costa Mare parlerà dell'importanza dell'approccio scientifico per la conservazione degli ecosistemi naturali parlando proprio del Jova Beach Party del 2022 Corrado Battisti naturalista referente della palude di Torre Flavia parlerà anche lui del Jova Beach Party a Torre Flavia Giuseppe Marino di Lega Ambiente Marsala parlerà del caso del sito Natura 2000 proprio dell'impatto del kite surfing della fruizione incontrollata io che sono l'etologa preferente di eticoscienza parlerò di impatto degli eventi naturali sul comportamento e il benessere animale ci sarà anche un contributo video dell'eco influencer e attivista Cristina Cotorbai modererà l'evento Bruno Cignini zoologo docente dell'università Torvergata di Roma per cui per partecipare è sufficiente collegarsi sulla pagina facebook di coordinamento citange ovviamente è gratuito noi vi aspettiamo a partire dalle 10 e mezza di sabato 9 marzo ecco se la cosa vi ha incuriosito grazie Chiara innanzitutto se la cosa vi ha incuriosito trovate sotto fonti articoli sulla pagina stampa di cambio.org tutti i riferimenti sia per seguire questo evento in streaming sia eventualmente per andarlo a vedere dal vivo allora sì lo so che oggi è l'8 marzo giornata internazionale della donna e non ho minimamente toccato il tema però visto che oggi sarà una giornata di proteste scioperi manifestazioni mobilitazioni per i diritti delle donne in Italia e nel mondo e vorrei parlarne dandovi un po' più di ciccia cioè in maniera un po' più approfondita raccontandovi quello che è successo e non solo quello che in teoria dovrebbe succedere ho pensato di parlarne per bene lunedì che non sarà più la giornata mondiale delle donne però comunque io vi potrò raccontare che cosa effettivamente è successo e questo è anche un mio modo per mettere le mani avanti e dire che comunque ne parlerò non voglio ignorare l'argomento detto ciò se nel frattempo volete dare un'occhiata a quello che succede sulle piazze italiane sui nostri canali social Italia che cambia faremo un minimo una breve diretta insomma diretta più che diretta pubblicheremo qualche foto e qualche commento così in diretta a caldo dalle piazze d'Italia noi invece oggi chiudiamo un po' come al solito con le notizie nostre quelle di Italia che cambia siamo nella rubrica la giornata di Italia che cambia e quindi passo la palla al nostro direttore Daniel Trozzi che ci racconta gli articoli più interessanti usciti oggi sul nostro giornale ciao Andrea buongiorno a tutti l'ultimo giorno della settimana lavorativa almeno che non lavoriate il sabato o la domenica e quindi vi lascio con un po' di suggestioni per il weekend dove finalmente potrete leggere tutti gli articoli che avete perso questa settimana su italiachecambia.org va bene la smetto che è tardi allora partiamo partiamo con coltivare condividendo una bellissima realtà che io conosco realtà da anni ma per cui sai quando diceva bene abbiamo già parlato tante volte su Italia che cambia e invece no non c'era l'articolo che li presentava abbiamo rimediato grazie a Cinzia Catalfamo che ha intervistato appunto i portavoce di questa bellissima realtà in particolare sul territorio di Belluno e insomma vi invito a leggere l'articolo perché si parla di salvaguardia dei semi di scambio dei semi del problema dei nuovi OGM di quali sono i rischi e di tanto tanto altra ancora e lo facciamo con Tiziano Fantinelle uno dei 15 amici che nel 2009 crearono la base per quella che nel 2018 divenne coltivare condividendo i semi sono la base della vita appunto si parla tanto di agricoltura in questo periodo magari i meno attenti non sanno che intorno alla proprietà dei semi ai breveti sui semi si segna il confine tra la vita e la morte spesso per intere popolazioni vi invito a vedere un bellissimo film di parecchi anni fa che si chiama Il mondo secondo Monsanto dove faceva vedere le conseguenze del controllo dei semi in India con tanto di suicidi purtroppo dei contadini quindi appoggiamo reti di semi rurali coltivare condividende la RAN la rete di agricoltura naturale e tutte le reti che cercano di valorizzare un altro tipo di agricoltura partendo proprio dai semi dalla vita e a proposito di vita Emanuela Sabidussi continua i suoi approfondimenti sulla sua settimana trascorsa presso la fattoria dell'autosufficienza questa volta con un'intervista a Stefano Berlini più che un medico uno studioso di medicina a 360 gradi e c'è questa bella intervista in cui viene approfondito il tema della salute come bene comune fra scienza e olismo qual è il confine che cosa vuol dire veramente essere sani quali sono i modi e anche che percorso ha fatto questo meraviglioso dottore e poi e poi sempre rimanendo in tema di salute ci spostiamo in Sicilia dove Paolo Cancilleri intervistato da Maria Enza Giannetto ci racconta del suo pane artigianale fatto di granduro siciliano e passione allora che cosa dice questa intervista ci racconta di questo ragazzo che fin da bambino a 5 anni voleva fare il panettiere non era un'attività di famiglia sì la sua zia faceva il pane ma non era un'attività di famiglia lui lo voleva fare e come spesso accade i sogni diventano realtà e la sua storia è bellissima e ovviamente è in pieno svolgimento assolutamente non è un punto di arrivo ma un punto di partenza e poi e poi oltre alla rassegna sarda che fra pochissimo verrà presentata l'ultimo articolo di oggi che voglio segnalarvi è legato alle 5 terre nella Liguria in cui anch'io mi pregio di vivere anche se tecnicamente vivo in Piemonte sono in una zona di confine che cosa succede succede che Nicola Muratore è andato a approfondire il tema delle 5 terre meravigliose sì io le vidi tantissimi anni fa oggi purtroppo fa impressione d'estate è una vera fiumana di persone non si riesce più a camminare io mi ricordo che quando ci andai la prima volta appunto da ragazzino a giugno era meraviglioso passeggiare in questi sentieri deserti con il mare a strapiombo i muretti a secco mentre adesso sembra di stare a Disney World a livello di quantità di persone e ci sono dei comitati che stanno cercando di salvare le 5 terre da questo turismo devastante e tra le cose che mi ha colpito in questo articolo è anche scoprire che Trenitalia ha fatto passare il biglietto per un chilometro tipo di strada da una delle 5 terre all'altra da 4 a 10 euro 10 euro per tipo 3 minuti in treno insomma tocca intervenire tocca intervenire comunque non andateci alle 5 terre a luglio agosto ma neanche il prevede a giugno a settembre andateci adesso andateci a marzo andateci prima di pasqua insomma lontano dai ponti sono stupende ma ma quel tipo di turismo no vi prego e quindi visto che il weekend si avvicina buon turismo sano che sia anche sotto casa nostra o dentro i nostri cuori le nostre menti e il nostro spirito e buon cambiamento grazie Daniel oggi è anche venerdì e quindi è giornata di assegne sarde e passo quindi la parola anche al nostro Alessandro Spedicati che ci racconta di cosa si parla nella puntata di oggi di Io non mi rassegno Sardegna a te Alessandro ciao Andrea un saluto anche a tutti gli ascoltatori puntata numero 21 di Io non mi rassegno Sardegna che guarda ai dati positivi sia per quanto riguarda l'allarme siccità di cui abbiamo parlato anche tempo fa e per quanto riguarda anche la colonia sarda di Grifoni che si sta rinvigorendo poi parleremo di una Sardegna poco sostenibile dal punto di vista dello sviluppo delle imprese e parleremo di diritto all'aborto perché oggi essendo l'8 marzo è la giornata internazionale dei diritti delle donne in merito CGL Sarda ha pubblicato un report che fa il punto della situazione sul diritto all'aborto nell'isola che insomma vi anticipo non è tra le migliori io vi auguro un buon ascolto un saluto dalla redazione di Sardegna che cambia bene grazie anche ad Alessandro siamo proprio in chiusura vi dico solo due cose al volo la prima è che domani sabato esce la nuova puntata di A Tu Per Tu in cui il nostro Daniele Tarozzi ci racconta in questo caso delle proteste degli agricoltori del mondo dell'agricoltura e cosa sta succedendo per discernere anche fra realtà e fake news che insomma come al solito girano in questi mondi cioè in questi mondi in tutti i mondi praticamente e l'altra notizia è che sempre domani sabato esce anche la nuova puntata di è un casino il podcast in cui invece io e Daniele ragioniamo e chiacchieriamo sulle principali notizie del mese appena trascorso in questo caso di febbraio la prima nel primo caso dovete essere abbonati per ascoltare A Tu Per Tu nel secondo caso dovete essere registrati alla newsletter di Io Non Mi Rassegno quindi fate un po' vobis va bene io direi che quindi ci possiamo salire qui io vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Io Non Mi Rassegno sempre per vedere l'area 8 su YouTube nonché sulle principali piattaforme di podcasting e sulla pagina di rassegna stampa del cambio.org voi mi raccomando state bene fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri